Siamo con Mr. Gabriele, facciamo un'analisi lucida della partita. La Roma ha perso per l'unico errore difensivo che ha fatto, ovvero il gol di Pantaleoni, e poi per uno schema sul calcio di punizione. Per il resto, partita perfetta da parte vostra. È una partita contro una squadra che gioca per vincere il campionato. Credo che noi siamo all'altezza di sfide come questa, abbiamo dimostrato anche questa sera, giocando una buona partita contro un avversario tra i più forti che c'è nella Lega di Serie A. Penso che gli errori che abbiamo commesso questa sera ci abbiano un po' tagliato le gambe. Logicamente contro avversari come questi non si possono commettere delle disattenzioni come quelle che abbiamo fatto questa sera. Loro sono stati molto bravi, hanno colto al volo le occasioni e ci hanno castigato. Una Roma che, a mio parere, rispetto all'inizio stagione, si sacrifica molto di più. Ad esempio oggi, grande partita di Maschietti, perché lui che è molto dotato per quel che riguarda la fase offensiva, a sinistra praticamente nel primo tempo, non ha fatto vedere la palla agli avversari. Con questo spirito, la squadra dove può realmente arrivare in una zona comunque difficile dove stai trovando in classifica? La squadra deve sicuramente arrivare con questo spirito a lottarsi fino alla fine il sesto posto, che è quello valido per entrare nei play-off. Credo che le premesse ci siano tutte, perché venivamo da tre risultati utili consecutivi. Questa sera comunque siamo andati in vantaggio contro la prima della classe. Abbiamo preso un incrocio dei pali nel fine del primo tempo che forse avrebbe potuto cambiare un po' gli equilibri in campo. Siamo cresciuti molto nelle ultime partite. Penso che, possiamo dire la nostra, possiamo essere comunque un ostacolo per tutte le squadre che ci affronteranno fino alla fine del campionato. A proposito delle squadre che vi affronteranno, come al solito voi oggi avete dimostrato che contro le grandi squadre fate le grandi prestazioni e la prossima sarà un'altra partita contro un'altra grande. Sicuramente è una squadra molto forte, una squadra che nell'andata ci ha messo in difficoltà, però ha combattuto fino alla fine contro noi, poi vinse su un calcio di punizione. Molti di quei giocatori oggi non ci sono più, è una squadra rivoluzionata, è una squadra differente. Penso che comunque ci sarà una bella partita, perché su un campo che noi conosciamo molto bene, perché fino alle scorse stagioni giocavamo le partite casalinghe allo Stella Azzurra, possiamo disputare un'ottima gara e penso che sarà una bellissima partita anche questa, anche la prossima. Grazie. Grazie a voi, buona serata.